e ben ritrovati scusate per l'attesa problemi tecnici di collegamento potremmo dire così ora ci siamo e andiamo alla prossima rubrica Allora la galleria degli orrori ma avvisiamo tutti gli appassionati di serial killer che stasera non parleremo di un serial killer andiamo allora a vedere il titolo di questa speciale particolare galleria degli orrori a proposito di terrorismo lo avevo detto un tema di grande attualità terrorismo di ieri e di oggi da Al Qaeda ad Hamas passando per l'Isis qui abbiamo titolato proprio Al Qaeda Isis e Hamas perché poi ricorrono due terribili anniversari oggi il ventennale degli attentati di Nasseria morirono 19 soldati italiani circa 30 i morti compresi gli iracheni era il periodo della seconda guerra in Iraq la seconda cosiddetta ribattezzata guerra del golfo un attentato proditorio che fu messo in atto e riconosciuto poi rivendicato anche da Al Qaeda domani invece 13 novembre ricorrono gli otto anni dagli attacchi di Parigi e la strage terribile del Bataclan per parlare di terrorismo di ieri e di oggi e per la galleria degli orrori ovviamente abbiamo in collegamento il professor Marino D'Amore buonasera e ben ritrovato buonasera sociologo della comunicazione all'università Niccolò Cusano è criminologo ma anche scrittore stasera nella veste di scrittore vediamo la copertina del libro eccola dedicata proprio alla comunicazione del terrorismo tra informazione e propaganda Franco Angeli la casa editrice la prima domanda la lascio a Gabriele Rao sì ecco professor D'Amore partirei proprio dal titolo che pone come dire in connessione due ambiti apparentemente forse non conciliabili ma che in realtà poi nei fatti nella pratica lo sono la comunicazione immagino intesa anche come forma di modo di modalità di rivolgersi a chi si vuole reclutare e appunto il terrorismo vorrei questa sera con lei analizzare un po' i cambiamenti rispetto ai vari fenomeni terroristici a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e partirei proprio da questo tema dal tema del reclutamento degli strumenti utilizzati per reclutare nuove reclute appunto disposte a tutto pur di far valere un principio un principio di morte è cambiata la metodologia in linea generale a suo avviso? è cambiata molto molto grazie alle nuove tecnologie soprattutto ai social network è diventata molto più invasiva rispetto al passato prima la comunicazione del terrorismo era incentrata soprattutto sull'esteriorizzazione sulla ipervisibilità degli atti per creare ancora più terrore, più paura presso le popolazioni colpite oltre ovviamente ai danni drammatici che poteva arrecare un attentato adesso invece la comunicazione si dipana su tantissimi ambiti diversi come giustamente ha detto lei per il reclutamento per l'aggregazione per rendere sempre più popolari le proprie cause la causa jihadista utilizza le nuove tecnologie in maniera soprattutto per l'isis molto professionale ci sono addirittura dei giornalisti, dei professionisti del settore che vengono abbracciano quella causa per raccontarla, per narrarla da un punto di vista assolutamente visivo e giornalistico addirittura sono state create delle agenzie matrimoniali online per far sì che i militanti possano sposare delle donne non necessariamente delle loro terre ma anche provenienti dall'estero e quindi educarle alla causa jihadista in questo senso il terrorismo da un punto di vista comunicativo è diventato tentacolare peraltro ricordo e lo ricordo anche alla regia qualcosa abbiamo iniziato a vedere che abbiamo poi in quelli che sono gli spazi dedicati alle immagini diversi riferimenti storici perché nemmeno tanto indietro non abbiamo quelle su Nasseria però poi tra poco vedremo anche immagini che riguardano il Bataclan e quelle più attuali relative a Damas e anche all'attentato che c'è stato recentemente a Bruxelles volevo chiedere a Gabriele Rao, non ci sono messaggi ma ricordo rapidamente io che potete scriverci anche in questo spazio Sì, anzi a maggior ragione dato che abbiamo ancora non moltissimo tempo a disposizione è un tema di grande attualità è un tema che ci riporta purtroppo ad una preoccupazione che meno male tutti ci ritroviamo a condividere quindi potete, anzi vi invitiamo a scrivere ancora prima del termine della trasmissione al numero 334-92-29505 messaggio normale o messaggio whatsapp oppure all'indirizzo mail crimini.cusanotv-gmail.com ecco se ci sono anche delle domande che vorreste rivolgere al professor D'Amore mi raccomando non esitate a scriverci e allora adesso vado io con la domanda al professor D'Amore come è cambiato il terrorismo noi siamo partiti dalla strage di Nassiria a contesto diverso rispetto a quelli che poi sono stati gli attacchi solo ed esclusivamente contro civili, genti inerme come ad esempio gli attacchi di Parigi ma volendo andare ancora più indietro ricordiamo l'attacco alle torri gemelle gli attentati di Spagna l'11 marzo del 2004 gli attentati a Londra ecco sono cambiati anche gli attentatori si può dire professor D'Amore da questo punto di vista nel senso sembra un terrorismo se vogliamo più organizzato non che non lo fosse prima ma forse sono un po' meno i cosiddetti cani sciolti ho solo un'impressione questa diciamo che non vediamo il terrorismo quando funziona bene l'intelligence e mentre il terrorismo è molto amplificato a livello mediatico e reso visibile quando l'intelligence invece riesce a sventare gli attacchi terroristici solitamente non se ne ha notizia quindi non sappiamo realmente qual è il peso del pericolo lo spartiacque vero come giustamente ha ricordato lei è l'attentato alle torri gemelle siamo in un periodo profondamente di passaggio tra un mondo analogico e un mondo digitalizzato e quello è un attentato profondamente televisivo perché viene concepito in maniera registica cioè chi ha pensato quell'attentato ha messo in conto che quando il secondo aereo si fosse abbattuto sulla seconda torre tutte le televisioni del mondo sarebbero state collegate su quell'evento e su quell'accadimento drammatico e questo non ha fatto altro che amplificare la drammaticità ma anche la tenuta di terrore e di percezione del terrore nel tempo nelle persone tanto è vero che molti studiosi avevano ipotizzato che la generazione che sarebbe seguita a quell'evento era una generazione che avrebbe socializzato poco sarebbe stata una generazione poco socializzante l'avevano chiamata Homeland Generation cioè generazione che avrebbe passato molto tempo di più in casa piuttosto che fuori fortunatamente non è stato così ma questo per far capire qual è stato l'impatto non solo di morte, di sangue drammatico ma anche sociale che ha avuto quell'evento lì abbiamo cominciato a conoscere quali sono le visioni terribili di un attentato terroristico indiretta ecco la simultaneità, il tempo reale è l'altro elemento importante in seguito poi l'ISIS come dicevo prima ne ha fatto un elemento imprescindibile dai suoi attentati alcuni molto organizzati altri invece che nascevano dai cosiddetti long wolf i lupi solitari quelli che magari ricordiamo gli attentati adesso che siamo vicini al Natale i mercatini di Natale di Perlino e di Nizza di persone che in maniera assolutamente autodeterminata e autogestita rubavano un camion o una macchina e si dirigevano su una folla di civili in quel caso l'organizzazione è minore c'è più un fattore estemporaneo nonostante poi le grandi organizzazioni terroristiche non manchino di rivendicare anche quel tipo di attentato lei giustamente citava il Bataclan il Bataclan è rappresentativo in questo senso perché l'ISIS lo rivendica con un post attraverso Twitter quindi attraverso un social e questo fa capire qual è il legame stretto a doppio filo tra le nuove tecnologie e il terrorismo moderno e tra coloro che hanno risposto al nostro appello un po' a scriverci c'è anche Luca da Merano che dice Luca di non provare una così intensa angoscia all'idea appunto scrive proprio per lo spettro del terrorismo da quasi dieci anni quindi effettivamente insomma anche tra le mie conoscenze ho registrato una preoccupazione crescente ma resterei con lei professor sempre sul tema di chi li ha tentati non si trova a subirli ma li o li progetta oppure li mette in atto e mi ricordo che nell'orrendo bienio 2015-2016 orrendo per molte nazioni in primis per la Francia tornò un po' in auge si parlò molto di un film meraviglioso ormai piuttosto datato un film francese non a caso con uno straordinario Vincent Cassel l'odio l'odio ecco e perché viene tirato in ballo? viene tirato in ballo molto spesso per cercare di fornire come dire una serie di spiegazioni sul perché anche molte persone che non vengono dall'esterno che non sono arrivate diciamo in Europa o dovunque sia da pochi giorni o da pochi mesi ma che sono magari fanno parte di terze o addirittura di quarte generazioni del perché anche persone che avrebbero in linea teorica la possibilità di vivere all'occidentale per utilizzare un termine forse un po' impreciso ma insomma per capirci del perché invece decidano di sposare un certo tipo di radicalità nel loro agire nelle loro azioni criminali ed è emerso e continua anche oggi ad emergere una caratteristica forse molto importante una possibile chiave di lettura quella del film l'odio quella del risentimento professor D'Amore sì sicuramente risentimento ma è una componente secondaria risentimento nasce dall'esclusione sociale lei giustamente ha notato che solitamente gli autori degli attentati sono degli immigrati di seconda o terza generazione raramente di prima generazione per quale motivo perché loro effettivamente crescono all'interno di una civiltà occidentale affrontano la socializzazione primaria e secondaria all'interno di quella società e vogliono integrarsi quando ricevono rifiuto rispetto a quella integrazione e poi per quel risentimento di cui parlava lei vogliono riscattarsi e come lo fanno in maniera assolutamente esasperata abbracciando quelle cause quindi un richiamo a una tradizione assolutamente radicalizzata e come ho detto morbosa ed esasperata nei vari fanatismi che purtroppo siamo costretti ad assistere e in alcuni casi la soluzione è proprio la causa jihadista ecco perché solitamente di questo non ne parlo io ma ne ha parlato benissimo un grandissimo sociologo del secolo scorso che era Zikun Bauman questo è uno dei motivi principali soprattutto della nascita della deflagrazione del terrorismo nelle periferie di molte di molte città soprattutto in centro Europa e purtroppo Francia e Belgio sono degli scenari molto familiari a questo tipo di azioni voglio ricordare e precisare la galleria degli orrori dedicata agli orrori soprattutto del terrorismo sono tanti abbiamo visti in diretta sociale non solo le tante decapitazioni per fare degli esempi e poi ne parliamo perché oggi ricorrono i vent'anni 12 novembre 2003 vent'anni fa la strage di Nassiria ne ha parlato anche il Presidente della Repubblica lo ha ricordato Sergio Mattarella domani 13 novembre 2015 otto anni fa gli attacchi di Parigi e su tutti ovviamente l'attacco al Bataclan per chiudere professore a proposito di comunicazione del terrorismo e di storia in questo senso possiamo dire che la prima volta che avvenne questo fu con l'attentato alle Olimpiadi del 72 a Monaco quando la Palestina non fu ammessa i palestinesi gli atleti palestinesi furono ammessi dal CIO a quelle Olimpiadi e i palestinesi che erano da tempo in guerra con Israele dissero ah bene non ci avete voluto alle Olimpiadi ci andremo a modo nostro e il mondo ci guarderà tutto insieme perché faremo quello che faremo poi presero in ostaggio gli atleti israeliani finì tutto in tragedia per l'opera maldestra a dir poco delle teste di cuoio tedesche ecco quello è l'inizio di comunicazione prima non ne ricordo mi aiuti lei se ce ne sono è stato Carlos Lo Sciacallo che era un terrorista che utilizzava molto la comunicazione per amplificare e rendere visibili le proprie gesta quello sicuramente quello che ha citato lei è un episodio centrale nell'evoluzione della narrazione terroristica perché? perché è in concomitanza con un evento molto popolare come le Olimpiadi che quindi ha dato ha rappresentato una sorta di cassa di risonanza rispetto alla drammaticità di quegli eventi poi sappiamo che Golda Meir insomma per tutta la sua vita ha ricercato e ha trovato i colpevoli di quell'attentato l'ha presa proprio come una missione una missione personale e quindi la storia ci ha tramandato è impresso a fuoco nell'immaginario collettivo la recrudescenza e la drammaticità di quegli eventi ed è sempre così solitamente diciamo che alcuni eventi riescono a dare una maggiore visibilità tanto è vero che anche l'attentato del Bataclan se lo ricordate è successo in concomitanza con una partita che era Francia Germania molta gente fu costretta a restare nello stadio perché effettivamente in varie zone della città si ripetevano attentati esplose una bomba esplose un ordigno quindi vissero l'incubo anche coloro che erano all'interno assolutamente ne esplosero tre e questo non fece altro che stabilizzare ancora di più un clima di tensione che era difficilmente gestibile sono tutti eventi che rappresentano una sorta di moltiplicatore di percezioni legate legate al terrore che fanno sì che questa questa sequela di eventi traumatici e di autorialità terroristica poi si si ricordi e rimanga nell'immaginario collettivo anche dopo tanti anni lei prima ha citato gli attentati di Madrid nel 2004 e gli attentati di Londra nel 2005 in rapida successione rispetto a quelli del 2001 beh è indicativo che in quel caso e questo è un altro elemento di riflessione nella nostra conversazione che allora i giornalisti inglesi negli attentati della metropolitana di Londra del 2005 decisero di non rendere troppo precisi i dettagli degli attentati proprio per non far pubblicità ai terroristi e questa fu una scelta deontologica che fu apprezzata anche dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine che in quel momento stavano indagando purtroppo a volte la spettacolarizzazione del dolore impedisce anche di seguire come dire il buonsenso e la responsabilità anche nel racconto e allora professor Damore noi la ringraziamo per queste sue considerazioni e l'aspettiamo in un'altra delle nostre edizioni di crimini e criminologia per un'altra delle nostre gallerie dell'orrore possiamo rivedere la copertina in chiusura del libro molto interessante ne abbiamo parlato anche alla storia oscura la comunicazione del terrorismo tra informazione e propaganda Franco Angeli a casa editrice libro scritto dal professor Marino Damore grazie prof alla prossima alla prossima grazie a voi a tutti i telespettatori grazie a Manuel Mazzei che ha curato la regia grazie a Lorenzo Guidotti a cui tra poco diamo la linea alla regia centrale grazie Gabriele Rau grazie a te Fabio grazie a te e vi do appuntamento a domenica prossima vi diamo appuntamento a domenica prossima con crimine e criminologia se volete però come sempre da lunedì al venerdì la storia oscura su Radio Cusano Campus di aspetto dalle 11 alle 12 grazie per l'attenzione buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV arrivederci a domenica prossima Grazie a tutti.